Sono Augusto Ciarrocchi, il presidente della Ceramica Flaminia ormai da parecchio tempo. L'azienda è stata formata da 23 giovani operai che all'epoca si staccarono dall'azienda in cui lavoravano e costituirono la società. Ceramica Flaminia può essere descritta con queste tre parole, qualità, design e sostenibilità. Il trend del 2023 abbiamo, oltre a lavorare sempre sulla innovazione del prodotto, ma ci siamo concentrati sul colore e sulle finiture, soprattutto matt con i nuovi colori uva e menta e silver black e silver white, ma le finiture per noi sono parte integrante del progetto. Il prodotto che preferisco sono il lavabbo Acqua Grande, disegnato nel 1997, oltre a un prodotto più recente che è il lavabbo Roll, che è tra ispirazione da un foglio di carta rotolare. Un aneddoto che risale appunto ai tempi della fondazione, quando i soci adottarono un cane lupo che era randaggio in zona e lo fecero diventare il marchio distintivo dell'azienda. Le collezioni di ceramica Flaminia si possono trovare negli showroom di Acqua Ceramiche. Un saluto da parte mio e dello staff di Ceramica Flaminia a tutti gli amici di Acqua Ceramica.